buongiorno e benvenuto in leggendo miracoli abbiamo terminato questo primo pezzo di viaggio fino alla lezione numero 50 adesso inizierà un ripasso il primo ripasso di questo viaggio che dura un anno in questo audio leggerò l'introduzione del primo ripasso dopodiché dal prossimo audio ci sarà la lezione 51 che sarà il ripasso delle prime cinque lezioni del testo un corso in miracoli l'introduzione dice a cominciare da oggi faremo dei periodi di ripasso ciascuno di essi tratterà cinque delle idee già presentate cominciando dalla prima e finendo con la cinquantesima ci saranno dei brevi commenti dopo ciascuna delle idee che dovrai considerare nel tuo ripasso nei periodi di pratica gli esercizi dovranno essere fatti nel modo seguente inizia la giornata con la lettura delle cinque idee commenti inclusi poi non è necessario seguire alcun ordine particolare nel prenderli in considerazione anche se ciascuna di esse dovrà essere praticata almeno una volta dedica due o più minuti ad ogni periodo di pratica pensando all'idea e dai commenti relativi dopo averli letti ancora fallo il più spesso possibile durante il giorno se qualcuna delle cinque idee ti attira di più delle altre concentrati su quella alla fine della giornata comunque assicurati di ripassarle tutte ancora una volta nei periodi di pratica non è necessario considerare i commenti che seguono ogni idea né letteralmente né approfonditamente cerca invece di porre l'accento sul punto centrale e pensalo come parte del tripasso dell'idea a cui si riferisce dopo aver letto l'idea e di commenti relativi gli esercizi dovrebbero essere fatti ad occhi chiusi e se possibile quando sei solo in un posto tranquillo questo va messo in rilievo per i periodi di pratica al tuo livello di apprendimento sarà comunque necessario che impari a non aver bisogno di ambienti speciali per applicare ciò che hai imparato avrai bisogno di ciò che hai imparato soprattutto in situazioni che sembrano creare turbamento più che in quelle che sembrano già calme tranquille lo scopo del tuo apprendimento è metterti in grado di portare la quiete con te e guarire angoscia ed inquietudine questo non avviene evitandole e cercando un rifugio in cui isolarti imparerai ancora che la pace è parte di te e richiede solo che tu sia pronta ad abbracciare qualunque situazione in cui ti trovi e infine imparerai che non c'è limite a dove sei e così la tua pace ovunque come lo sei tu noterai che ai fini del ripasso alcune delle idee non vengono date esattamente nella loro forma originale usale come ti vengono proposte qui non è necessario ritornare alla formulazione originale né applicare le idee come era suggerito allora qui stiamo ponendo l'accento sulle relazioni che esistono tra le prime 50 idee che abbiamo affrontato e sulla coesione del sistema di pensiero cui ti stanno portando viene con questo mao ti invito ad iniziare il primo ripasso della lezione numero 51 ci vediamo lì grazie a tutti